Ciao a tutti! Oggi continuiamo con l'esplorazione delle proprietà degli shape layer. In particolare vedremo la proprietà trim paths che è molto utile per simulare il disegno di una linea. Bene, cominciamo subito con un esempio e partiamo dal disegnare un tracciato aperto. Quindi prendo lo strumento pennino e disegno qualche punto. Incomincio dal lato sinistro, poi proseguo qui a destra cliccando e trascinando in modo da far passare una curva da quel punto e poi continuo così per altri due o tre punti. Facciamo questa volta una linea un po' complessa. Direi che così è sufficiente. Benissimo! Adesso apriamo nella timeline il contenuto dello shape layer. C'è la sezione contents, la apro, c'è il contenitore di tutte le proprietà di questa forma che si chiama shape 1 e ho le quattro sezioni che abbiamo già visto nella lezione precedente. Bene, adesso per prima cosa clicco sul contenitore di tutte le forme, cioè su contents, attivo contents e qui sulla destra c'è questo menu add e se io clicco su questo triangolo a sua destra compaiono ulteriori proprietà che possono essere aggiunte a questa forma. La proprietà che oggi andiamo ad esplorare si chiama trim paths. Eccola qui. Quindi adesso io clicco su questa voce e come vedete qui in basso compare una sezione che si chiama trim paths 1. Adesso io clicco sul triangolo alla sinistra di trim paths in modo da aprire il contenuto di tutti i parametri di questa proprietà trim paths. I parametri sono tre. Uno si chiama start, uno end e uno offset. Vediamo a cosa servono. Cominciamo dallo start. Se io aumento questo valore che al momento è zero, quindi ci clicco sopra e trascino, vedete che l'inizio del tracciato che è qui si accorcia. In questo caso siamo arrivati qua. Se proseguo e arrivo fino a 100 mi mangio praticamente tutto il tracciato dall'inizio fino alla coda. Adesso riporto il valore a zero. Se invece agisco sul parametro end che è al 100% e diminuisco questo valore vedete che adesso è la coda che viene mangiata. E quando io arrivo a zero per cento tutta la coda viene mangiata e non rimane nulla della linea. Benissimo. Riporto il valore indietro. Mi fermo un attimo a metà per farvi vedere anche cosa succede se io aumento o diminuisco il valore di offset. Quindi modificando il valore di offset quella linea che io ho scorre verso destra e quando arriva in fondo rientra da sinistra e posso andare avanti all'infinito e simulare lo scorrimento di una linea lungo un tracciato. Bene, riazzeriamo questo valore. Adesso faccio un'animazione sul secondo parametro end che va da zero per cento a cento per cento in modo appunto come dicevo all'inizio da simulare il disegno della linea. Quindi portiamo il valore di end a zero per cento accendo l'orologio di end e quindi ho un keyframe al tempo zero. Poi prendo il cursore del tempo e lo porto avanti facciamo un paio di secondi quindi fino qua e riporto il valore di end a cento per cento. In questo momento la linea è completamente disegnata. Adesso faccio una preview e vediamo qual è il risultato. Come vi avevo anticipato praticamente ho simulato il disegno della linea dal punto iniziale al punto finale. Benissimo. Non ci fermiamo qua. Facciamo contemporaneamente anche un'animazione sullo start e cioè innanzitutto mi allineo con la fine di questa animazione e vado sull'ultimo keyframe. Tasto destro go to keyframe time. In questo momento voglio cominciare a mangiare la testa del tracciato cioè a fare un'animazione sullo start da zero a cento. Quindi in questo momento qua accendo l'orologio di start con valore zero. Dopo altri due secondi quindi prendo il cursore avanzo più o meno fino a quattro secondi porto il valore di start a cento per cento. Faccio una preview di questi quattro secondi e vediamo qual è il risultato. Nei primi due secondi la linea si disegna nei restanti due si cancella. Quindi io posso disegnare e cancellare una linea. Ma se io prendo i due keyframe dello start e li anticipo nella timeline cioè li porto verso l'inizio facciamo in modo che il primo keyframe sia più o meno a un secondo cioè a metà strada tra i primi due keyframe del parametro end. Vediamo un po' qual è il risultato. Il risultato è che da zero a un secondo la linea si disegna e basta come si vede. Da questo momento in poi la linea continua a disegnarsi ma contemporaneamente anche comincia a cancellarsi dalla testa perché comincia a entrare in funzione il parametro start. A due secondi la linea termina di disegnarsi e a tre secondi in questo caso termina di cancellarsi. Se adesso facciamo una preview in tempo reale vediamo qual è il risultato che mentre si disegna già si cancella per cui abbiamo la sensazione che un breve tratto della linea scorra lungo tutto il tracciato. Benissimo e se noi i due keyframe dello start li anticipiamo ancora il risultato sarà di avere una linea sempre più corta che scorre lungo il tracciato che abbiamo disegnato. Vediamo ancora. La linea è ancora più corta. Adesso la modifico in tempo reale durante la preview. Prendo i due keyframe li anticipo ancora. Il risultato è una linea ancora più breve e naturalmente se io prendo i due keyframe dello start e li porto in coincidenza dell'end come vedete non rimane più niente perché nel momento in cui viene disegnata la linea contemporaneamente si cancella. Quindi se le due copie di keyframe sono quasi contemporanee la linea è molto breve. Se invece le due copie di keyframe sono distanti nel tempo la linea s'allunga. Ok? Lasciamola più o meno qua. Benissimo. Se noi volessimo invece che tutta questa animazione partisse da destra e finisse a sinistra potremmo invertire l'ordine del tracciato. E come si fa? Qui nella timeline a fianco della sezione path ci sono due frecce una verso sinistra e una verso destra e al momento è attiva la prima ma se noi clicchiamo su questa seconda freccia qua praticamente invertiamo la direzione del tracciato e quindi si invertirà anche l'animazione sul trim path. Quindi clicco sulla freccia che va verso destra e se riguardo l'animazione vedrò che adesso parte dalla coda e finisce in testa. Quindi invertendo la direzione di un tracciato si inverte anche l'animazione del trim path. Rimettiamola normale. Benissimo. Proviamo anche a rendere la linea tratteggiata per vedere se l'animazione sul trim path funziona ugualmente. Quindi per rendere una linea tratteggiata sappiamo che si deve andare nella sezione stroke, questa, aprire il suo contenuto e dove c'è scritto dashes cliccare qui sulla destra il tasto più. immediatamente la linea diventa tratteggiata. Magari facciamo il tratteggio leggermente più lungo aumentando la proprietà dash e se faccio di nuovo una preview vedrete che l'animazione sul trim path funziona anche se la linea è tratteggiata. Benissimo. Adesso elimino dalla timeline questa linea quindi la seleziono e col tasto canch la tolgo dalla timeline e aggiungo adesso una forma chiusa per vedere come si comporta il trim path con i tracciati chiusi. Quindi vado nel menu delle forme predefinite e prendo in questo caso un ellisse e disegno un cerchio. Ecco qua. Di nuovo seleziono il contenitore contents, vado nel menu add, clicco sul triangolo e di nuovo riapplico la proprietà trim path. Benissimo. Apro trim path e vediamo cosa succede quando diminuisco aumento la proprietà end. Ora nel caso precedente era chiaro che il tracciato cominciava dove io avevo creato il primo vertice, finiva dove avevo creato l'ultimo vertice. Ma in questo caso siccome il tracciato è chiuso il suo inizio come vedete coincide con il punto che sta più in alto di quel tracciato che in questo caso è qua. Benissimo. Quindi adesso portiamo il valore a zero, il cursore di nuovo lo portiamo al tempo zero, accendiamo l'orologio di end e dopo un paio di secondi di nuovo portiamo l'end al cento per cento. Benissimo. Se non volessimo far partire il disegno di questo cerchio da questo punto qui, basterebbe in questo caso agire sulla proprietà offset che ci permette di far scorrere la linea lungo il tracciato. Per esempio se volessimo farla cominciare da questo punto qua, basta mettere a circa 90 gradi il valore di offset e il tracciato comincerà a disegnarsi da quel punto lì. Quindi facciamo pure una preview, come vedete comincia da qui e finisce qua. Se volessi farlo partire da un'altra parte non dovrei fare altro che di nuovo cambiare il valore di offset, magari dalla parte più bassa, cioè da qui, potrei fare così. Benissimo. Come avete visto la proprietà trimpath è adatta per lavorare sullo stroke, sul contorno, ma se io attivo il fill vedrete che la proprietà trimpath lavora anche sul riempimento. Quindi apriamo un attimo le proprietà dell'ellisse. Come vedete fill 1 al momento è spento, ma se io riaccendo l'occhiolino si vede immediatamente che non soltanto il contorno nero si disegna, ma anche il riempimento rosso si disegna esattamente come il contorno. Facciamo una preview giusto per vedere il risultato finale. Ok, benissimo. Diciamo che 99% delle volte useremo questa animazione soltanto sul contorno, però a volte può tornare utile anche per tagliare il riempimento. Benissimo. Facciamo adesso un ultimo esempio per vedere come funziona la proprietà trimpath quando si ha più di una linea. Quindi innanzitutto cancello subito questo cerchio, lo seleziono, tasto cancello, elimino, prendo di nuovo il pennino, disegno un paio di curve. Comincio con la prima da qua, una linea curva di tre punti. Benissimo. Poi per fare in modo di disegnare un tracciato separato da questo, seleziono lo shape layer nella timeline, in modo che adesso ho interrotto il disegno di questa linea, ricomincio a disegnare qua sotto, in modo da disegnare una seconda linea separata adesso. Questa volta la facciamo di tratti rettilinei. Benissimo. Quindi ho due linei. Se vado ad aprire il contenuto dello shape layer nella timeline, vedo che ho due shape. Lo shape 1 è la linea curvilinea sopra e lo shape 2 è la linea sotto. Benissimo. In questo caso, visto che ho due linee, mi faccio subito notare una cosa importante che riguarderà un po' tutte le proprietà della sezione add. E cioè, se io seleziono il contenitore generale contents e aggiungo la proprietà trim paths, ecco qua, la proprietà che io aggiungo si aggiunge dopo le forme che ho shape 2, shape 1 e poi trim paths. Bene, butto via trim paths. Ma se io seleziono per esempio lo shape 1 e dal menu add aggiungo la proprietà trim paths, come vedete questa proprietà si è andata ad infilare dentro il contenitore dello shape 1 e non dopo le due forme fuori. E in questo caso questo trim paths funziona soltanto all'interno di shape 1. Cioè se io apro le proprietà di trim paths e lavoro sulla proprietà end, come vedete si disegna soltanto la prima linea, lo shape 1. Di nuovo elimino il trim paths da qua. Ma se io faccio come ho fatto all'inizio, cioè seleziono contents, aggiungo dal menu add di nuovo trim paths e adesso vado a lavorare di nuovo sull'end, come vedete disegna tutti quanti i tracciati, sia il primo sia il secondo. Quindi bisogna sempre stare molto attenti quando si aggiungono queste proprietà del menu add a che cosa è selezionato qui a sinistra. Il più delle volte bisogna fare in modo di trovarsi in questa situazione, cioè che la proprietà sia al di fuori delle forme. Quindi bisogna sempre selezionare prima contents e poi andare a scegliere la proprietà. Benissimo. Ora di nuovo facciamo l'animazione da 0% a 100% sulla proprietà end. Quindi prendiamo il cursore, lo portiamo al tempo 0, la proprietà end la azzeriamo, quindi tutte e due le linee come vedete non si vedono più, accendo la proprietà end e dopo un paio di secondi ancora porto l'end a 100% e come vedete, se faccio una preview, entrambe le linee si disegnano in due secondi. Ma se noi andiamo a vedere l'ultimo parametro della proprietà trim paths che si chiama trim multiple shapes vedete che è impostato su simultaneamente, che significa che l'animazione dell'end agisce contemporaneamente, simultaneamente appunto su tutte le linee. Ma se io cambio questa voce da simultaneously a individually, cioè individualmente ogni linea, cosa succederà? Che prima si disegna il tracciato più in alto, che è questo qua, che è lo shape 2 in questo caso e poi dopo si disegnerà il tracciato 1. Vediamo. Prima il tracciato numero 2 e quando ho finito il tracciato numero 2, poi il tracciato numero 1 e il tutto avviene in due secondi. Facciamo una preview. 2, 1. Perché disegna prima il tracciato numero 2? Perché è il primo della lista dei tracciati qua. nella sezione contents. Se noi invertiamo l'ordine dei tracciati, adesso chiudo lo shape 1, prendo lo shape 1 e lo metto prima dello shape 2, adesso il primo tracciato ad essere disegnato sarà il numero 1, quello curvilineo. Proviamo. Ecco fatto. Ed è proprio così. Quindi quando ho più di un tracciato e uso la proprietà trim paths, io posso disegnare i tracciati contemporaneamente tutti se lascio la prima voce simultaneously. cioè così. Oppure se li voglio disegnare uno dopo l'altro, in sequenza, scelgo la seconda voce individualmente. Quindi incomincia il primo della lista dei tracciati e finisco con l'ultimo. Benissimo. Quindi per la proprietà trim paths direi che è tutto. E nella prossima lezione continuiamo con altre proprietà dello shape layer. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao.